Ci sono nuovi sviluppi sulla tragedia di domenica scorsa a Cardito, quando una violenza inaudita si è abbattuta sul piccolo Giuseppe, il bimbo di sei anni picchiato a morte dal compagno della mamma. Forse poteva essere salvato, la sua agonia sarebbe durata qualche ora mentre la mamma e il patrigno avrebbero cercato di medicarlo. La madre sembra fosse presente quando Tony picchiava due dei suoi tre figli, ma non avrebbe fatto niente neanche quando il suo bambino ha perso i sensi. Valentina Casa al momento non risulta indagata, c'è un buco di due ore e mezza tra le 10 di domenica e le 12 e 30 quando la madre di Tony arriva a casa allertata dalla telefonata della sorella e chiamando il 118. Per il piccolo però non c'era più nulla da fare, sulle due ore e mezza si farà luce con l'autopsia disposta dal PM Paola Izzo e attesa nei prossimi giorni. Già sabato i due bambini erano stati picchiati dal patrigno, saltavano sul letto della cameretta che Tony aveva da poco comprato. Domenica il secondo e fatale round, questa volta colpi di mazza. Tony ha dichiarato di aver perso il controllo perché i bambini facevano chiasso e li ha presi a pugni e a calci. Noemi, la sorellina di Giuseppe, viva per miracolo. A sette anni è superstite e unica testimone credibile del massacro. Ieri mattina c'è stato il primo approccio con il PM e con la psicologa. La bambina è molto provata, non vuole parlare di ciò che è accaduto. Quando sarà pronta i magistrati disporranno l'interrogatorio ufficiale in modalità di incidente probatorio. Per ora resta al santo bono, poi andrà in una casa famiglia. Fino all'interrogatorio non potrà incontrare nessuno dei suoi parenti, neanche il padre biologico, per evitare condizionamenti esterni sui suoi ricordi già messi a dura prova dal trauma.